Buongiorno, ciao. Non esattamente, se mi puoi dare un attimo solo il suo documento. Certo, questo ovviamente lo sto registrando, perché tutta questa messa in scena è una farsa mondiale organizzata da particolari personaggi che conosciamo bene della finanza internazionale. Allora, dove devi andare? Qua, dove devi guardare. Debole non c'è, è inferia. Ah sì? Sì. E dove c'è la procedura qualcuno? Ma cosa deve fare? Una pratica di separazione. Non so se ci sta per questo. Vabbè, vedo che c'è qualcuno. Quindi anche io gli ho. Non lo so. Non lo so. Guarda. Sì. Avete di chi è questo gatto? Un attimo. La di me. Non lo so, non lo vuoi, che era? Gatta, c'è un po' di rosa. Ma è bellissimo. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. E la prossima settimana, per l'erro. Ma quindi è rientrato solo qualche giorno e poi riuscire di nuovo? Penso di sì. Ma è di qualcuno lo possiamo? Treppoli di? Ah, vi le portiamo qui. Sì. Mi aveva dato il suo telefono cellulare. Sì. Ma perché lei non ha riuscito a riuscire? Eh, però l'ho segnato da qualche parte e non me lo ricordo più. Potrebbe... Non lo posso dare. Vabbè, se telefono me lo dà eventualmente. No, non lo posso dare. Non lo posso dare. Vabbè, lo devo andare a cercare. Sì. Grazie. 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 Grazie.